Il palazzo del palazzo, poi passeremo a visitare le principali sali di rappresentanze, una fontana al centro del cortilio d'onore che oggi non c'è più. I guardini del regime, quindi qui c'è la monarchia, sempre similari, ma due che sono differenti rispetto agli altri, sono quelli piccoli, sempre XVI secolo, perché sono di manifattura fiammica. Vediamo adesso. Il palazzo del palazzo, che quindi si snoda dalla metà del cortilio. Signori cortesemente nel riciclo, il Parlamento 24 è un monumento valido, giacca e cavata per i nomini, fino al salvamento dei posti, ciascuno è una fata punta. Questa domanda è il primo da sinistra, più che la cavalcata, Vittorio Emanuele III.